in presenza di quella che è l'unica macchina sul mercato dotata dalla possibilità di montare le schede telcom al suo interno ce ne sono quattro due per il playback e due per il record a questo punto andiamo a verificare lo stato ecco il telcom è in questo momento è acceso lo spegniamo e andiamo a verificare registrando la distorsione della macchina in modo che sia pari all'1% dove facciamo la misura a 1kHz passiamo il livello fino a raggiungere indicativamente l'1% ecco ci possiamo accontentare di un valore 0,9 che va bene ugualmente a questo punto facciamo il calcolo del s su n ecco la macchina in sé è dotata di circa 69.7.8 dB di s su n ma andiamo a vedere cosa succede quando mettiamo il telcom in funzione ritorniamo a verificare la distorsione inseriamo il telcom vediamo che intanto la distorsione è scesa allo stesso livello operativo 10 dB è scesa allo 0,36% quindi possiamo aumentare il livello fino arrivare all'1% ecco siamo arrivati a più 18 dB 8 dB in più di modulazione rispetto a prima ritorniamo alla verifica dalle s su n a questo punto ci ritroviamo con 100 dB di s su n alla velocità di 38 cm al secondo piano di s su n allo sono